Pi, 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 pi No, shh E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph E questo è Gigi Crema dei Sims 4 Andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Alberto, Leo Super, Alessia, Ricky, Blockcraft e Cice Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi E siamo qui tornati su The Sims Oh, che bello Allora, ti devo subito dire che abbiamo iniziato a dire alle cavie del festival Sono ovviamente entusiasti di quest'idea Non vedono l'ora di poter fare il loro spettacolino Di dare sfoggio delle proprie abilità Dato che ancora non ne hanno avuto occasione Infatti, non mi stupisce che non vedono l'ora Soprattutto alcuni Esatto, soprattutto Tina, non vorrei dire Ma siccome non sono tutti sicuri come la nostra Tina Ovviamente hanno chiesto un po' più di tempo per prepararsi Ed evitare appunto di fare figuracce nel palco Sai com'è? Sarà pieno di gente Quindi vogliono evitare di rovinare la loro occasione E quindi cosa andremo a fare? Allora, prima di tutto Andremo a provare a fare il primo raduno del club di Lia Dato che ancora non l'abbiamo fatto Dobbiamo riuscire a reclutare almeno una persona per la povera Lia Ma dai, almeno cinque No, no, almeno una Io proprio punto in basso con lei Perché so che è tanto sfigata Ne voglio soltanto una Oltre a Beatrice che ovviamente c'è già La splendida Beatrice Abbiamo già lei Quindi puntiamo a uno Dopodiché cosa andremo a fare? Andremo a lavoro con Luca E dopodiché gli chiederemo un pochettino di cos'è Sulla relazione che ha con Tina Perché in effetti non si capisce bene che intenzioni ha Sì che cos'è, sì che cos'è Tutti i consulini vogliono che Luca e Tina stiano assieme E quindi noi da bravi scienziati Accontenteremo le loro richieste Cercheremo di farli mettere assieme Oppure si metterà lui in mezzo Perché guarda, non è un caso che sia passato qui davanti proprio in questo momento Guarda com'è fiero Sta cercando la sua nuova amante E pensi che possa essere Tina Sì, hanno già parlato una volta Cammina qui davanti per valutare la situazione Vedere cosa sta succedendo Esatto, sta guardando il territorio Non è una brava persona Dovremmo eliminarlo Prima o poi dovremmo farlo fuori Eh scusa, non si comporta bene Non mi sembra il caso di lasciarlo In ogni caso Ti voglio interrompere perché altrimenti parli per sei ore Mia cara Perché sei vestita così? Perché siccome c'è la celebrazione del suo Lia Dicevo io? Che cosa ho di male? Mi rovina tutto Visto che c'è l'inaugurazione del suo club Diciamo che si è fatta a prendere un po' troppo la mano E si è vestita Lia Questi sono i classici abiti eleganti da alieno Vedi proprio ai colori del suo pianeta Capito? Ok, allora Prima di tutto abbiamo cambiato gli abiti ad entrambe Perché non ci sembrava adeguata una poliziotta e un elegante Ti vorrei far notare una cosa Cioè Beatrice si è cambiata di nuovo una volta arrivata al club Che bellina Penso che sia il tipo di abito che abbiamo impostato nel club E Lia non lo rispetta? È l'unica che non rispetta? Forse perché il capo? Non lo so Conta che lei si voleva vestire elegante Gliel'abbiamo consigliato noi di andare un po' più casual Magari non le stava tanto bene Comunque iniziamo subito Ok Cosa tutto dovremmo fare secondo te? In questo momento in contemporanea c'è pure il raduno dei gnomidi a giardino Che per di più è l'altro club di Beatrice Vedi? Quindi hanno fatto un altro raduno Dove essere il nostro? Lo so ci hanno rubato il posto Ci hanno rubato il posto dove fare il raduno E lei è il capo Moira Files è nostra nemica d'ora in poi Te lo dico Sono arrabbiatissima Cioè scusa Doveva essere il raduno solo per Lia Guarda che più ci rimane male se le mettiamo altre persone Eh lo sai Eh lo so però cosa ti devo dire Vabbè Noi cerchiamo Beatrice sarà felice perché sarà anche l'altro suo club Magari creiamo un'alleanza tra i due club Non lo so Bando alle cianze Ciance Ciance Iniziamo subito a reclutare persone Come si farà Ecco di nuovo la La barbona Che poi io ho detto scherzando Che è una barbona Però mi hanno detto che davvero in The Sims Ho letto Esistono i barboni Beh io l'ho detto perché comunque dormiva in una pancina Esatto Cioè è un po' logico È bellissima questa cosa E lo sai che lei ci ha buggato il ristorante Lo so Lo so Sì Vi ricordate il bug dell'ultimo episodio del ristorante Che noi non potevamo più entrare Ho scoperto oggi giocandoci che era colpa sua Non appena l'ho licenziata il gioco è tornato normale Non chiedermi perché Esattamente Dopo che si è buggato per altre cose Ma pazienza Non parliamo adesso che è meglio Perché altrimenti la finiamo a lamentarci e basta Allora Io direi Lei nel club non la voglio Anche se un'aliena mi sta un po' antipattica Poi magari ci bugga pure il club Esatto Meglio non rischiare Meglio non rischiare Cioè Allora Ogni volta che ti vediamo Stai con una signorina diversa Io non vorrei dire Esatto Non vorrei insinuare nulla Però iniziano ormai a sorgeci dei dubbi Non credi Giocando a scacchi Allora ci sono Beatrice e Lia che parlano da due ore con questo bambino Ha iniziato Beatrice così capito L'ha subito fatto felice E adesso Lia può proporgli di entrare a far parte del club Oh che bello Allora club Invita nel club Invita a far parte del club Ti prego accetta Non fa rimanere male Lia Non se lo merita Lei è una ragazza Deve essere il primo partecipante del club Dai Entrato No perché ho visto dei petali Dato che abbiamo l'amicizia petalosa No? Non ho capito Non ho capito Forse stanno finendo la discussione Sì 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 Alessio è il nostro primo membro ufficiale del club Guarda che ha detto Mi prendi in giro Entrerei nel club e l'amicizia petalosa Più che volentieri È felicissimo Grandissimo Alessio Siamo felicissimi anche noi per Lia Assolutamente Esatto Festeggiamo facendo la prima attività del club Possiamo fare un abbraccio a tutti Dai abbraccio a tutti Ovviamente Ovviamente Come si fa un abbraccio a tutti? Non ne ho idea Altre scelte Amichevole Dimmi se la vedi da qualche parte Guarda altre scelte ancora Altre scelte Dai un abbraccio Dici un abbraccio fraterno No perché io voglio un abbraccio a tutti Ok io direi che è andata abbastanza bene Ragazzi scriveteci nei commenti Vi prego in qualche modo Come possiamo fare le attività del club Perché sia Non svegliare l'ama che dorme Sia L'abbraccio a tutti Usa interazioni con tutti Non stanno funzionando Allora Probabilmente per il gioco Ci vuole qualche Qualche accessorio Qualche gioco Non credo Perché ci siamo un gioco tipo 1, 2, 3 stella Che fai così e improvvisato Perché ad esempio Per fare quel gioco che c'è nell'armadio Ci vuole proprio l'armadio Per cambiarsi Infatti non mi metto il dubbio Però abbraccio a tutti Cioè non mi sembra Ci voglia qualcosa di particolare Forse siamo solo noi Che non troviamo Le cose da fare per il club Comunque Io direi che come primo raduno È andato più che bene Sì Lì ha parlato con un po' di persone diverse È riuscita a sbloccarsi Quindi A fare quello che vuole A parlare con le persone Che succede? Che succede? Che hai fatto una faccia? La bambina Mi sa che è quella dei Rinaldi Chi è dei Rinaldi? Scusami Non lo so Però l'ho già vista Lei mi ricorda qualcosa Non so perché E poi tutta qua sola Soletta a giocare al parco Possiamo trovare un'amichetta per lui Secondo me potrebbe essere una cosa carina Facciamo questo invito anche a lei Così nel caso avremo due bambini E lei sarà felicissima E ne ho detto che ha un'ora verde intorno Un'ora verde perché? Ma non è che puzza? Non si è fatta la doccia per troppo tempo Ma non credo È felicissima Vedi è molto felice Probabilmente è talmente felice Che sta diventando verde Non lo so È pericolosa Non è che sono fossorescenti al buio Gli alieni Non ne ho idea Comunque li provate che L'IA è molto felice Come stavo dicendo Prima che tu vedessi quella Quella bambina Il suo raduno è andato bene È riuscita a prendere Addirittura due nuovi membri Quindi a convincerli Due bambini A entrare Vabbè Lei piacciono No infatti È proprio una cosa positiva E poi almeno meglio Perché così Alessio Può giocare con Elena Si chiama L'ho letto adesso E quindi sarà più invogliato A tornare ai nostri raduni Esattamente Quindi terminiamo così il raduno E credo che LIA Sarà davvero felice E guardagliela faccia Guardagliela qui Si sentirà un po' più a casa Guarda quanto è felice Siamo appena rientrati dal raduno E guardate cosa abbiamo trovato Li abbiamo trovati così da soli Senza aver fatto nulla Qui sotto Nel seminterrato E penso che Tina Stia cercando di cucinare qualcosa Cosa sta facendo secondo te? Non lo so Non so se sta bruciando Anche perché sta bruciando il forno Quindi inizierei a preoccuparmi Però Luca mi sembra molto felice Guardalo È lì che si beve sui drink Che mangia quello che ha cucinato Tina Suppongo perché non c'è nessun altro Secondo te un appuntamento? Glielo dobbiamo chiedere Secondo te un appuntamento? Non lo so Solo che io non venivo qui sotto da un sacco E trovo duemila piatti mollati Che però luccicano Quindi li ha cucinati Cracco Quando luccicano Sono cucinati da Cracco Ma dici che magari Cracco Gli ha cucinato la cena Per il loro appuntamento Dobbiamo indagare su questa cosa Non lo so Perché li abbiamo trovati così Guarda Guarda Luca che fa finta di niente Se ne va via Appena Non appena l'abbiamo osservato Torna qui Guardalo Guardalo Torna qui Luca Sì comunque hanno fatto tutto di nascosto Mentre noi pensavamo a Lia E adesso dobbiamo scoprire di più Raccontaci cosa è successo Oh tesoro mio Sembrano canzoni un po' classiche Io volevo suonare qualcosa di pop Di molto allegro Però forse col piano Esatto Possiamo suonare solo cose classiche Smettila Smettila Allora No non hai capito tu Io non ci credo Sei uno scienziato Rimani professionale Perché se Luca Vede una cosa del genere Ci rimane male E non suonerà più canzoni per Tina La devi smettere Ma fa schifo suonare col piano E' un chitarrista Che pretendi Guardalo Guardalo Sembri tu quando scrivi con la tastiera Non ci provare Ma lui è un chitarrista Magari è normale che non so suonare Si aspetta pure la luce Da quanto ha addormentato anche l'elettricità Allora Mandiamola a lavoro E lasciamo perdere Lasciamo perdere Prima che Tina cambi idea E non vogliamo più cenare con lui Comunque Secondo me sai cosa vuole fare? Vuole preparare una canzone Da dedicare a Tina E la canterà al festival Quindi sarà una canzone Che si dichiarerà con una canzone Al festival Per quello lui infatti E' uno di quelli che ha chiesto appunto Più tempo per prepararsi Perché vuole fare una bella canzone Spero che non utilizzerà il piano però Perché se utilizza il piano Siamo messi male Il suo strumento e la chitarra Farà sicuramente una bella canzone Con la chitarra Non vedo l'ora Non vedo l'ora Ragazzi c'è un problema Secondo me Lia non ha ben capito Il carattere di Giulia E sta facendo una di quelle cose Che non andrebbero mai fatte Sai cos'è successo? Io lo so Quando le ha regalato il nano Che Giulia Ha frainteso Giulia appunto gliel'ha regalato Perché Per farle capire Che ha capito Che è un'aliena Lei secondo me l'ha preso Come gesto di amicizia Io te l'avevo detto Che avrebbe frainteso Nello scorso episodio Te l'ho detto E guardala Che usa le sue cose Io spero che Giulia In questo momento Non entri nella stanza E la veda Cioè Toccando le sue cose Perché secondo me Si arrabbierà tantissimo Lia ti prego Fermati Comunque Luca Ha detto che non ha voglia Di fare lo scienziato Questa è l'unica cosa Che ci ha voluto dire Perché ha detto Che si rifiuta di lavorare Fino a quando Non prepara La canzone d'amore Per dichiararsi Continua Questo lui ha detto E questo dobbiamo rispettare Quindi lui non lavorerà Fino al festival Mi sto per togliere una scarpa E lanciargli L'addosso Cioè Esiste questa cosa Che lui non voglia Andare a lavoro Tutte le cavie Hanno fatto Anzi quasi tutte Perché anche Riccardo Manca Riccardo Riccardo poverino Non l'abbiamo mai calcolato Riccardo è la persona Meno calcolata Nella serie Ufficialmente Proprio in assoluto Questo non piace a nessuno Non piace neanche a noi Quindi Poveretto Eh Pensa solo allo sport Cioè ogni volta che ci parli È noioso Che ti devo dire Comunque Tutti hanno fatto Il lavoro Che ricordiamo Sono opposti Rispetto alle loro personalità E Luca Non ci vuole andare Esatto Esatto Lui dice che deve Imparare a cantare Ancora di più Perché comunque Capisce di essere Deve migliorare No secondo me sai che cos'è Da quando sono nella casa Non si sono molto allenati Nelle loro abilità Quindi è probabile Che siano un po' calati No 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 Sai qual è il problema Il problema È lui Lui si sente minacciato Sa bene che Cracco È pericoloso Eh ha ragione Ora sì E quindi sta di dover fare Una canzone Proprio un hit Stellare Perché altrimenti E allora gli lasciamo Il giorno libero per forza Cioè con Cracco Nessuno può Non un giorno libero È un mese libero Perché il festival È tra un bel po' di giorni Quindi avrà un sacco di tempo Tutto il giorno cantando Passerà Allora Gli faremo iniziare il lavoro Dopo il festival Esatto Questo sicuro Così almeno adesso Si possono concentrare Su queste cose E poi sì Gli do ragione Di Cracco Bisogna davvero avere paura Sì Soprattutto perché Cucina bene È al festival Potrebbe fare Chissà quale magia Di cucina Cose di giocoleria Capito Sì 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 Nessuno può competere Capito Beh ragazzi Con il video Ci fermiamo così Nel prossimo episodio Andremo a seguire Le nostre cavie Che inizieranno ad allenarsi Per il festival Quindi vedremo un po' tutti Iniziare ad allenarsi Per i loro spettacoli Per le loro esibizioni Sono davvero curiosissimo Abbiamo preparato un posto Per il festival Fighissimo Io lo dico È davvero bello Dove ognuno avrà La sua sezione Per allenarsi Poi c'è il bel palco Dove si potranno esibire Esatto Io spero che Riccardo Faccia qualcosa di bello Per farsi notare Un po' in questa serie È diventato pure fiacco Cioè guardalo È diventato magro magro Cioè non è più capace Neanche di fare lo sportivo Deve farsi valere A questo festival Perché altrimenti Rischia di essere Il primo cacciato fuori Di una cosa del genere Non lo so Loro possono stare in questa casa Ma si devono anche comportare bene Altrimenti finiscono fuori Comunque Prima di finire il video Andiamo a salutare Gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Andblob Giada Eliana Pull 8897 Leox E Matteo Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video è così Se è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao